Allora comincio una specie di piccolo carrellata di video propedeutici per l'introduzione dell'idealismo tedesco e nello specifico di un autore come Fichte. Allora voglio cercare adesso di traghettarvi da Kant, sostanzialmente, all'idealismo di Fichte. E non è un compito per niente facile, perché in realtà l'idealismo tedesco, nello specifico la dottrina di Fichte, si propone come una sorta di compimento della filosofia critica trascendentale di Kant. Secondo Fichte, tutto quello che dice è esattamente ciò che ha detto Kant, sviluppato in maniera sistematica. In realtà la filosofia di Fichte, vedremo, propone elementi assolutamente nuovi, quindi inediti, un'interpretazione del tutto particolare della filosofia di Kant. E quello che vi voglio proporre adesso è, con una piccolissima, brevissima esposizione, dei tre grandi autori critici e allievi, anche in un certo senso, epigoni, in un certo modo, della filosofia di Kant, e cioè Reynold, Schulze e Maimon, dimostrarvi come questi autori propongono una serie di questioni della filosofia kantiana, che poi verranno ripresi da Fichte e in generale dalla filosofia idealista, dell'idealismo tedesco. Il primo autore è Reinhold, ovviamente, che è importante per il nostro discorso, perché innanzitutto è l'autore che propone, una volta per tutte, l'idea di una filosofia kantiana a sistema, cioè l'idea di una sistematizzazione della filosofia di Kant. La filosofia di Kant per questi autori, per Reynolds e per Fichte, che riprenderà questo elemento di Reynolds, è una filosofia in un certo modo propedeutica, in un certo modo, come dire, che apre alla possibilità di una vera scienza filosofica, ma che non è compiuta effettivamente. E qual è l'elemento che, secondo Reynolds, manca? Manca il principio. Quello che manca della filosofia di Kant è il principio, l'individuazione del principio da cui tutto deriva. E, secondo Reynolds, questo principio è, lui lo chiama, il principio della rappresentazione, forstellung. E che cosa intende per principio della rappresentazione? Beh, come ricordate, per la filosofia di Kant, ciò che è veramente conosciuto, ciò che diventa oggetto di un giudizio sintetico a priori, cioè di un giudizio sintetico, un giudizio determinante, è il fenomeno, tutto ciò che appare, ciò che cade sotto le forme di conoscenza, che sono condizioni di possibilità della conoscenza. Questo significava che la cosa così com'è, cioè la cosa in sé, poteva essere solo pensata, ipotizzata, era noumeno e non era quindi conosciuto, non era conosciuta. Questo porta dei problemi, una serie di problemi che vedremo in Schulze e in Maimon vengono assunti, ma la questione di Reynolds, l'ipotesi di Reynolds, è quella di interpretare appunto questo fenomenismo epistemologico, come è stato chiamato, di Kant, come una teoria della rappresentazione. Cioè, si dà un rappresentante, cioè il soggetto, con le proprie forme di rappresentazione, che rappresenta un rappresentato, e cioè l'oggetto. Il soggetto è il rappresentatore che dà forma a una materia inerte, che è, in un certo senso, la cosa in sé, l'oggetto. L'idea di Reynolds, appunto, che ci deve interessare, per chiudere, perché a noi serve poi poco di questi autori, solo in funzione al discorso di Fichte, appunto, è quello di una teoria che abbia un principio, un principio organizzativo, e in questo senso per Reynolds è la forstellung, la rappresentazione, per produrre una vera e propria scienza, una scienza filosofica, che, come vedremo, sarà il grande obiettivo soprattutto dei filosofi idealisti, e nello specifico di Fichte, di Schelling e di Hegel.